Per cui anche ispirarsi a quello che è la credibilità degli anni passati non ci fa che migliorare il nostro modo di considerare. Con l'aiuto di ingegneri coreani che sono venuti per seguire e imparare una metodologia che allora non era così sviluppata in Corea. Per cui a ricordare questo veicolo mi fa ancora piacere. Per cui a ricordare il nostro obiettivo è molto utile. Per cui a ricordare il nostro obiettivo è stato un grande design di cui D.N.A. e il progettino per il futuro. Grazie a tutti.